Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, diamoci dentro col video. Questo video in particolare che mi chiedete in tanti e in continuazione parla di una storia tremenda, una storia che però va raccontata, per non dimenticare. Prima di iniziare però bisogna ringraziare lo sponsor di oggi, grazie a Surfshark VPN per aver sponsorizzato questo video. Surfshark è un servizio che serve a proteggere e anonimizzare la vostra navigazione su internet. Si sa, vagando online possiamo essere vittime di furto dei dati, ad esempio, ma soprattutto questo servizio protegge la vostra posta elettronica e i vostri conti bancari online, cosa sicuramente utile. Sono qui dunque per dirvi di fare attenzione. Proteggete i vostri dati, i vostri smartphone, i vostri computer. Come? Beh, installate Surfshark. Con Surfshark potrete navigare tranquilli, nessuno potrà scoprire il vostro indirizzo IP, quindi potrete dire ai tanto temuti e misteriosi hacker Via dal mio computer, fatti i cavoli tuoi, chi ti ha invitato? Vattene! E l'hacker risponderà Ok, potrete vedere i video su YouTube che non sono disponibili nel vostro paese perché se vi Surfsharkate potrete spostare la vostra navigazione letteralmente dove vi pare. Unetevi anche voi nel club dei malandrini, solo così potrete accedere anche ai cataloghi Netflix di tutto il mondo. Ma non solo, potete accedere a tutte le piattaforme che qui in Italia non sono disponibili. Per di più, tutto ciò costa davvero pochissimo. Con il mio codice sconto OCCIO avrete uno sconto dell'83% sull'abbonamento, più tre mesi gratuiti. Dunque, che aspettate? Entrate insieme a me nel club dei malandrini, il link è in descrizione. Maria Teresa Novara ha 13 anni nel 1968. È figlia di una famiglia di contadini di Cantarana, nella provincia di Asti, e frequenta le scuole medie di Villafranca. Nell'inverno di quell'anno, una zia moglie del tabaccaio di Villafranca l'accoglie a casa sua per evitarle il viaggio ogni mattino, visto il freddo e la lunghezza del tragitto. La ragazzina dorme nell'ex deposito delle sigarette della tabaccheria ed è lì che verrà rapita il 16 dicembre durante la notte. Maria Teresa, terrorizzata, fa la pipì a letto per lo spavento. La rapisce un pregiudicato locale, Bartolomeo Calleri, convinto che la famiglia sia più facoltosa di quanto in realtà è. Maria Teresa, infatti, è figlia di contadini. Il rapitore la porta a Canale d'Alba, in provincia di Cuneo, in una cascina nota come La Barbisa. Il paese oggi viene chiamato solo Canale, nel tentativo di nascondere che si tratti proprio del luogo in cui è avvenuta questa vicenda. L'uomo, resosi conto che la famiglia non poteva pagare il riscatto, sperato, decide di monetizzare vendendo Maria Teresa per turpi interessi intimi agli abitanti dei dintorni. Nelle zone attorno a Canale d'Alba non erano pochi i facoltosi che non si facevano scrupoli ad avere rapporti con Maria Teresa senza curarsi dell'età e senza domandarsi se fosse tenuta prigioniera o meno. Con quel rapimento, o meglio, reato a scopo di libidine come verrà identificato dalla procura, iniziano otto mesi di ricerche senza sosta da parte delle forze dell'ordine, coordinate dall'allora giudice istruttore di Asti, Mario Bozzola. Una sera il rapitore, dopo aver compiuto un furto a Chieri, per sfuggire alle forze dell'ordine, si getta nel Po, a Torino. Travolto dalla corrente, finisce per annegare. Tutto a causa di un posto di blocco. Qualcuno sostiene che fosse un posto di blocco molto opportuno, visto che il rapitore aveva cominciato a essere troppo ricco e a parlare troppo in giro. Con lui viene arrestato il complice di sempre, Luciano Rosso. I carabinieri scoprono l'identità di Bartolomeo Calleri grazie a una ricevuta, trovata intatta nella tasca dei pantaloni dopo il ripescaggio del corpo presso uno sbarramento del Po. È l'8 agosto. Intanto, Maria Teresa è chiusa in uno stanzino semibuio, senza acqua, senza cibo e senza aria. Qualcuno ha avuto cura di tappare anche le due prese d'aria del cunicolo sotterraneo dove la ragazzina era incatenata. Mentre con singolare lentezza gli inquirenti aspettano vari giorni prima di perquisire la casa del pregiudicato, nessuno degli individui che si approfittarono di lei, chiariamo, tutte apparentemente brave persone, gente normale, inseriti nella vita sociale, con mogli e figli, notabili e professionisti, contadini e professori, nobili e politici, parlò. Avevano tutti taciuto per omertà, per incuria, per durezza di cuore. Nessuno dunque si diede pena di avvisare che nella cascina era rinchiuso un essere umano incatenato. Eppure sarebbe stato facilissimo farlo, anche in modo anonimo, con una lettera o tramite un prete. Ma loro, con spietata crudeltà, preferirono tacere, sicuramente anche per evitare il rischio che la ragazzina, sopravvivendo, potesse riconoscerli e denunciarli. Pur sapendo che Maria Teresa stava morendo, prigioniera e sepolta viva, cinicamente tacquero. E a dirla tutta tacquero, anche le mogli, le figlie, le sorelle, il prete, il medico, il farmacista. Maria Teresa trascorse quei giorni dormendo quasi sempre, finché l'inedia e la scarsità d'aria la uccisero poche ore prima che gli inquirenti scoprissero il suo corpo. I carabinieri erano in cerca di armi e bottini, non avrebbero mai immaginato di trovare, in una botola interrata, con l'ingresso mimetizzato da paglia e polvere, il corpo senza vita di quella ragazzina che la procura di asti e la sua famiglia cercavano da otto mesi. Maria Teresa è in condizioni terribili, palesemente truccata come una prostituta, morta per asfissia su un giaciglio di fortuna, tra i resti di cibo sul pavimento interrabattuta. Secondo i giornali dell'epoca, come ad esempio Famiglia Cristiana, non voleva la pena di fare un caso della sua fine atroce dal momento che si era prostituita. Anzi, Famiglia Cristiana trovò da moralizzare in relazione al fatto che nello sgabuzzino fossero trovate riviste esplicite, indicandole come causa del degrado della fanciulla, dimenticando forse che era stata rapita, cioè era prigioniera e terrorizzata, costretta e incatenata. Il caso di Maria Teresa Novara è uno dei più atroci casi di colpa collettiva e di obnubilamento delle coscienze individuali nella legge del branco che dilania, tormenta e infine uccide l'innocente. Overtà, indifferenza sociale, difesa del proprio status, protezione a oltranza della propria sicurezza, della propria tana, del proprio piccolo equilibrio. Non importa se è conquistato sulla pelle di una bambina seviziata, martirizzata, terrorizzata e uccisa. Sul caso scese l'oblio del tempo e dell'indifferenza e non fu neanche aperto il fascicolo per omicidio, solo quello per rapimento e sequestro che porta alla condanna di un'unica persona, il presunto complice del rapitore, Luciano Rosso. Mentre tutte le brave persone normali continuarono a difendere la loro miserabile vita di menzogne e di omertà. È il 14 agosto del 1969. Siamo nell'ospedale Cardinal Massaia ad Aste. Sta per iniziare l'esame necrologico sul corpo di Maria Teresa Novara, La fanciulla che era stata rapita a tredicenne a Villa Franca nella fredda notte del 15 dicembre di otto mesi prima, ritrovata cadavere il giorno precedente, morta di media e di mancanza d'aria, nel cunicolo in cui era rinchiusa e incatenata a causa della scomparsa del suo rapitore e carceriere, Bartolomeo Calleri, un pregiudicato che a suo tempo era stato famoso come il bandito di Carrò. Otto giorni prima, per sfuggire i carabinieri che l'avevano fermato su un camioncino carico di refurtiva, si era gettato avventatamente nel Po, annegando. Sono presenti l'incaricato dell'esame, il professor Pierluigi Baima Bollone, all'epoca giovane medico legale da poco entrato in ruolo, che in seguito diverrà famoso come patologo presente nei maggiori casi giudiziari italiani, con lui per dovere d'ufficio il dottor Mario Bozzola, pressapoco coetaneo. Giovane procuratore di Asti lascerà una notevole impronta nella storia giudiziaria della sua città. Difficile, anzi impossibile, trovare normale routine l'esaminare un corpo ancora acerbo, tragicamente deceduto. In fondo però, il caso pare sostanzialmente risolto. Il maggior colpevole, colui che ha rapito la bambina e l'ha tenuta imprigionata per otto lunghi mesi, è morto. Il fatto stesso che la fanciulla sia morta di inedia fa supporre che non vi siano altri complici. In tal caso l'avrebbero soppressa, liberata o trasportata in un altro luogo. Unica cosa ancora da appurare è se Luciano Rosso, il complice che si è gettato nel poi insieme a Calleri, riuscendo però a salvarsi, sia stato a suo tempo complice anche del rapimento e in tal caso responsabile anche di non aver avvertito le autorità dell'esistenza della rapita. L'unico inquietante e particolare riscontrato è che i tubi da reazione della prigione sotterranea sono stati otturati con dei giornali. Inverosimile pensare che qualcuno ve li abbia messi per caso, per un simile atto, è più verosimile una ragione frutto di una logica criminale. Baima Bollone compie le operazioni preliminarie e l'esame esterno che indicano chiaramente il corpo di una ragazzina della sua età, 14 anni compiuti da poco, quando era prigioniera già da mesi. Non serve molto all'abile patologo per scoprire le cause della morte. A uccidere Maria Teresa non sono state, come si sarebbe potuto ipotizzare, la fame e la sete. Seppur in modo insufficiente, la fanciulla ha potuto sfamarsi e dissetarsi durante quegli orribili otto giorni trascorsi da sola nella sua tomba a prigione. La causa della morte è stata la mancanza di ossigeno. L'assassino silenzioso, quindi, è l'anidride carbonica accumulata sul fondo del sotterraneo. Con amarezza il patologo fa presente che sarebbe bastato che il misero giaciglio su cui era steso il corpo si fosse trovato 30 centimetri più in alto e la piccola prigioniera sarebbe stata salvata, detto che il biossido di carbonio tende ad accumularsi in basso. Il procuratore ascolta, quasi assente, turbato. Dal punto di vista giuridico, adesso è necessario introdurre l'ipotesi di omicidio a carico degli ignoti che hanno occluso le prese d'aria. Lui però può solo stendere il documento, occuparsene poi sarebbe stato il procuratore di Alba, l'unico competente per territorio ad aprire un simile fascicolo. Lui può solo procedere per il reato di rapimento. A un certo punto Baima Bollone rompe il silenzio, dicendo Procuratore, vi sono segni indicanti che la fanciulla nell'ultimo periodo di vita ha subito ripetuti abusi intimi. Adolorato Bozzola risponde Purtroppo la cosa non mi meraviglia, era fin troppo evidente che un rapimento che non poteva dare speranza di ottenere un pagamento di riscatto non potesse che avere questo scopo. Il patologo per un istante sembra imbarazzato. Poi dice Da segni inequivocabili posso arguire che gli abusi non possono essere stati opera di un'unica persona. Si dovrebbe pensare a decine, forse centinaia. In quel momento quella che pare essere una tragedia dovuta all'azione criminale di un singolo e della tragica fatalità si rivela essere una delle più orribili vicende della storia criminale italiana. Ma chi era Maria Teresa Novara, la vittima di questa terribile vicenda? Cosa le è successo? Maria Teresa, 13 anni, povera, studiosa, graziosa, come può essere un adolescente la cui femminilità sta sbocciando. Il viso regolare, i capelli neri trattenuti dal cerchietto, gli occhi grandi e malinconici. I suoi genitori, Mario e Luisa, abitano a Cantarana, a pochi chilometri da Villa Franca e a 12 chilometri dal luogo dell'uccisione della figlia. Sono contadini, sono dignitosamente poveri. Circa un paio di anni prima era accaduto un piccolo incidente all'apparenza banale che sarà invece l'antefatto della tragedia. La ragazza, che frequenta la prima media, in preda alle brezza della velocità perde il controllo della bicicletta mentre sfreccia sulla ripida discesa che da Bricco Barrano va a Villa Franca. Cade dalla bici una brutta caduta con conseguente rottura di una caviglia. I genitori, già piuttosto anziani, vivono con preoccupazione il fatto che la figlia percorrà da sola due volte al giorno quattro chilometri di non certo agevole e sicuro percorso. Per questo motivo cercano una soluzione e la trovano chiedendo aiuto allo zio Pasquino, un commerciante benestante marito della sorella della madre di Maria Teresa. Lo zio accetta di ospitare la bambina durante il periodo scolastico, nella sua casa, che sta sopra la tabaccheria, proprio al centro di Villa Franca, vicino alla scuola. La soluzione per un certo periodo sembra ottimale. La ragazzina, aiutando a sbrigare le faccende domestiche e soprattutto stando al banco in tabaccheria, ripaga con largo interesse la non certo esosa spesa del mantenimento. Ma a un certo punto qualcosa si guasta. Pasquino chiede al cognato di riprendere a casa la figlia. Come motivazione, o scusa, adduce il fatto di avere due figli maschi, dato che spesso deve assentarsi per lavoro, teme accada un fattaccio. Luigi Novara probabilmente non condivide la preoccupazione. Sua figlia ha la testa sulle spalle. I due nipoti, di cui uno sposato, gli sembrano bravi ragazzi. Fatto sta che per due volte elude la richiesta. A questo punto entra in campo anche Teresa, moglie di Pasquale Bornino, la quale, di fronte ai dinieghi, si mette in testa che sorella e cognato semplicemente vogliano fare in modo che siano lei e suo marito a mantenere la loro figlia. Però, il 15 dicembre, la questione pare risolta con un compromesso ragionevole. A partire dall'inizio delle vacanze natalizie, Maria Teresa sarebbe tornata a casa. I se, purtroppo non fanno storia. Se la bambina non fosse caduta dalla bicicletta, se suo padre l'avesse ripresa anche solo una settimana prima, se il rapitore fosse arrivato una settimana dopo, tutti i se restano per sempre nel campo delle congetture, ahimè. Quel che avviene, invece, è che nella gelida notte tra il 15 e il 16 dicembre, mentre fuori cominciano a cadere i primi fiocchi di neve, ignote mani criminali avvolgono l'inerme corpo di Maria Teresa Novara in un sacco di juta e la portano via con l'aiuto di un complice. La fanno scivolare sotto la tapparella e la portano giù per la scala a pioli che avevano appoggiato sotto al poggiolo. Attraversata un'erta ripa boscosa e la massiccia della ferrovia scassinano la porta di un distributore di benzina e tagliano la cinghia di una tapparella che viene usata per legare Maria Teresa. Quella mattina Maria Teresa era stata messa e aveva fatto la comunione, mentre nel pomeriggio si era arriccata dalle suore. Come già detto il rapitore, la porta nella sua abitazione, una cascina denominata Barbisa, ma forse per qualche tempo Maria Teresa era stata in una casa in via Betlemme 71 a Chivasso e in un'abitazione in piazza Kennedy a Borgaretto di Beinasco dove poteva contare sull'appoggio di due soci per colpa della momentanea impraticabilità, causa neve, della strada per la Barbisa. Un giorno Calleri si ritrovò il cortile pieno di cacciatori, personaggi facoltosi e altolocati. Fu l'inizio del calvario per Maria Teresa. Costoro anziché chiedergli di liberarla o correre a denunciarlo, ricattarono il rapitore. Se avessero parlato sarebbe andato in carcere per rapimento, ma invece, ahimè, le cose sono andate diversamente. Calleri non era certo uno stinco di santo, inoltre i cacciatori non pretendevano di avere Maria Teresa in cambio di niente, erano disposti a sborsare denaro. Il pregiudicato si adattò benissimo alla nuova situazione, cominciò a organizzare festini ai quali, a quanto pare, portava anche due o tre prostitute di Torino o Chivasso, mentre i cacciatori cominciarono a invitare gli amici, gli amici degli amici, gli amici degli amici degli amici. Per convincere Maria Teresa, Calleri era ricorso a mezzi spicci. Sicuramente la prigioniera non si era rassegnata, ma che non fosse consenziente per i cacciatori non era un problema, ma anzi era un'eccitazione in più. Quasi tutti in paese si avvidero del via vai di macchine alla sera, ma nessuno parlò. Chi partecipava? D'altronde era gente per bene. Però le situazioni soprelencate contribuirono a dar vita a un'inutile moltitudine di supposizioni e ipotesi sbagliate. L'ipotesi più gettonata nei primi giorni è quella di un rapimento da parte di persone convinte che la fanciulla sia figlia di Borgnino, non certo un riccone, ma discretamente benestante. Però, dato che sarebbe perlomeno strano che uno o più malavitosi compiano un rapimento senza raccogliere la minima informazione, si pensa alla variante di ladri entrati in casa per rubare che, trovando all'improvviso Maria Teresa, abbiano deciso di rapirla, magari anche per non correre il rischio che la fanciulla si mettesse a urlare. A queste ipotesi se ne affiancano altre. Lo zio, un tipo un po' spaccone, non molto simpatico ai suoi paesani, diventa subito bersaglio di sospetti. Gli inquirenti ricevono numerose lettere anonime in cui si insinua il sospetto che abbia fatto sparire la nipote per nascondere che è incinta di lui oppure per evitare che riveli degli abusi o altre situazioni simili. Naturalmente, anche ai giornalisti giungono numerose illazioni dello stesso tenore. Come se non fosse sufficiente, lo zio ha un altro difetto. Si dice fascista. Non è vero. Casomai è vicino alla democrazia cristiana. Lui era stato, forse per opportunismo, prima della guerra. Però i giornali impegnati di sinistra, che probabilmente trovano svilente a scrivere articoli su presunte tresche rusticane, la buttano sulla politica. Maria Teresa sarebbe stata rapita da altri fascisti per non si sa quale vendetta contro lo zio. Fatto sta che anche la pista politica divenne un leitmotiv che accompagna l'inchiesta. Il risultato è che Maria Teresa, in tal modo, anche dopo il ritrovamento, non riceve l'empatia e la solidarietà che avrebbe meritato. È una figlia del popolo violentata per mesi da ricchi pedo, ma altrettanti mesi di illazione hanno fatto sì che ormai i lettori dei fogli di sinistra vedano in lei solo la nipote di un fascista. Quando viene ritrovata all'unità si affretta a scrivere che sono emerse le prove che si è trattato di una fuga volontaria, magari indice di una vera e propria sindrome di Stoccolma e si dimentica rapidamente del caso. Per suffragare l'ipotesi si sottolinea il fatto che Maria Teresa, palleggiata fra lo zio che non la vuole più e il padre che non la rivuole indietro, possa avere motivi validi per desiderare di sfuggire alla sua non invidiabile situazione. A forza di leggere sui giornali che forse Maria Teresa ha avuto una tresca con lo zio che forse è scappata con un giovanotto oltre ad altre ipotesi di contorno fra cui quella che sia stata uccisa per nascondere che era stata messa incinta da un prete la gente comincia a pensare che la ragazza fosse una poco di buono come si diceva allora. Bartolomeo Calleri il rapitore è un criminale un pregiudicato ma non certo uno sprovveduto. Non si sa se con le minacce o approfittando dell'ingenuità di una tredicenne che forse non era mai uscita dal suo paese la induce a scrivere ai genitori state tranquilli sto con brave persone che mi hanno promesso mi faranno guadagnare molti soldi. Chiunque abbia un minimo di onestà intellettuale intuirebbe subito che una tredicenne che scrive una cosa simile ai genitori o è stata costretta o è talmente ingenua da non capire che significato verrebbe attribuito alle sue parole. Purtroppo è una scorrettezza da parte degli inquirenti rendere pubblico il contenuto della missiva e molto scorretto è anche il perito calligrafico il torinese Aurelio Ghio che dopo sommario esame dichiara che si tratta sicuramente di Maria Teresa e che la bambina abbia scritto senza costruzione. Il padre Mario non riconosce la lettera come proveniente dalla figlia dice quella lettera non l'ha scritta Maria Teresa non mi sbaglio non è possibile perché io l'ho vista tante volte scrivere soltanto la T è come la fa lei il resto è tutto diverso. Intanto un albergatore e un cameriere di quarto d'asti affermano di aver visto Maria Teresa nel loro locale mentre fuori ad attenderla c'è un uomo in auto. Nessuno sembra prendere davvero sul serio il pericolo che incombe sulla vita della bambina sequestrata molti pensano si tratti di una ragazzata e sostengono che Maria Teresa sia viva e nei dintorni. Si vivono ore di apprensione e trepidazione in casa Novara. Un paio di giorni dopo nella tabaccheria del Borgnino arriva una telefonata dalla Svizzera e una voce di uomo dice Maria è con noi è felice non preoccupatevi. La conversazione viene ascoltata e registrata dalla polizia e viene richiesto l'intervento dall'Interpol. I genitori della ragazza lasciano un appello che viene pubblicato sui quotidiani la stampa e gazzetta del popolo. Figlia cara ti perdoniamo tutto torna a casa. Il riferimento a un ipotetico perdono contribuisce chiaramente a rendere opaca la figura di una bambina che nulla aveva da farsi perdonare. Nulla. Il 21 febbraio l'ennesimo colpo di scena il magistrato istruttore Mario Bozzola ordina l'arresto del capo dei cantonieri di Villa Franca con l'accusa di falsa testimonianza. Risulta infatti che pochi giorni prima della scomparsa di Maria Teresa l'uomo abbia chiesto informazioni sulla ragazza alla commessa di una lavanderia stireria del paese in particolare su dove fosse collocata la sua stanza. L'uomo viene messo a confronto con la commessa ma nega con ostinazione. Gli inquirenti escludono che sia lui il rapitore e pensano che si tratti piuttosto di un voyeur intenzionato a spiare di nascosto la ragazza. Il giudice istruttore ne ordina la libertà provvisoria ma il capo cantiere non regge lo scandalo. Colto da un collasso viene ricoverato all'ospedale un altro vicolo cieco. Ad aprile a Cantarana aggiungono poche righe attribuite a Maria Teresa. Vi si racconta di una gita al lago si parla di divertimento. La lettera risulta essere stata imbucata alla periferia di Milano. Un disegno ritrovato qualche tempo prima dal giudice istruttore fra i quaderni di Maria Teresa con un po' di fantasia alimenta l'ipotesi che la ragazza abbia progettato lei stessa la fuga. Nello schizzo sono raffigurati uno scorcio panoramico di Cantarana e più in lontananza una parte di Villa Franca dove si scorge l'abitazione dello zio. Addossato al muro posteriore visibile nel disegno una scalapioli. Esaminando il disegno è però difficile dire che si tratti della casa dello zio e che la scaletta appena schizzata sia proprio una scalapioli. Arrivano false segnalazioni a decine impegnando inutilmente le forze dell'ordine. Nelle prime ore dopo la mezzanotte del 5 agosto 1969 a Torino due carabinieri e un graduato avvistano un camioncino avanza lentamente e destra il sospetto dei militari che intimano l'alt. La vettura si ferma poi improvvisamente l'uomo accanto al guidatore si mette a gridare scappa scappa il camioncino accelera i carabinieri partono all'inseguimento con la loro automobile una Fiat 750 e per la fretta lasciano appiedato il loro graduato all'angolo concorso Vittorio il camioncino sbanda finisce contro una macchina parcheggiata prosegue ed entra nel parco del Valentino all'altezza del borgo medievale è costretto a fermarsi dal furgone scendono precipitosamente due uomini corrono verso il Po e si buttano in acqua cercando di raggiungere l'altra riva a nuoto uno ci riesce ma finisce nelle mani dei carabinieri mentre l'altro verrà ritrovato cadavere tre giorni dopo presso la diga del pascolo è senza documenti viene quindi riconosciuto tramite le impronte digitali e una ricevuta che ha in tasca è Bartolomeo Calleri 34 anni originario di San Michele di Mondovì Calleri è pregiudicato è stato in galera per rapine a coppiette tanto da conquistarsi l'appellativo mediatico di bandito di carru e furti a distributori di benzina i precedenti con la giustizia datano a partire dal 1954 quando a solo 19 anni terrorizza l'intera provincia di Cuneo per quasi nove mesi derubando decine di persone soprattutto coppiette sotto la minaccia di una pistola e di un coltello il 17 ottobre di quell'anno viene arrestato e condannato a nove anni che vengono diminuiti a sette in appello nel 1961 esce dal carcere si trasferisce a Torino per poi espatriare clandestinamente in Francia commette altri furti a Nizza e la polizia lo arresta sconta la pena nel 1962 è nuovamente in Italia dove per un paio d'anni lavora come saldatore ma nel 1965 ruba una macchina non si ferma all'alto dei vigili urbani dando vita a un inseguimento ed è condannato a tre anni di reclusione usufruirà del condono e poco dopo sarà di nuovo fuori l'altro uomo che si butta nel po' riuscendo a raggiungere la riva è Luciano Rosso che quella notte è con lui sul furgone carico di lattine d'olio rubate Calleri aveva acquistato la barbisa da due anziani contadini Giuseppe Giacosa e Bartolomeo del Santo il 5 ottobre di due anni prima aveva speso tre milioni per far costruire una nuova strada che si arrampicava fino allassù stranamente in un paesino come Canale d'Alba nessuno a partire dai carabinieri si preoccupa del nuovo proprietario della barbisa nessuno trova strano che un forestiero un pregiudicato che non svolge attività agricole scelga come abitazione una casetta barbicata né si preoccupa dei suoi trascorsi Calleri fa anche scavare un sotterraneo quasi un bunker lontano da qualsiasi occhio indiscreto isolato dal mondo da utilizzare per nascondere l'area furtiva e non solo ahimè visto il destino della povera Maria Teresa intorno alla barbisa viene costruito un muro di cinta ma anche di questo in un paese di poche anime nessuno si meraviglia il muro copre solo tre lati della proprietà il quarto lato affaccia su un dirupo non si fa in tempo a realizzare un muro e quindi viene usata una rete metallica alla cascina i militari arrivano ufficialmente il 13 agosto ma nei giorni fra il 4 agosto quando Calleri esce dalla casa per non farvi più ritorno e il 13 giorno del ritrovamento nel corpo di Maria Teresa vengono effettuate di sicuro tre visite alla barbisa due nel pomeriggio del giorno 8 quando Antonio Borlengo vicino di casa è proprietario della cascina di fronte prima con il cugino Carlo e poi da solo avendo appreso per radio il ritrovamento del corpo del Calleri si reca alla cascina per motivi che non spiega neanche in modo chiaro ma sebbene Borlengo conosca l'esistenza del sotterraneo che afferma ritenere fosse un deposito per la refurtiva né lui né gli altri almeno stando alle loro dichiarazioni aprono la botola la terza visita avviene la mattina del giorno 9 quando i carabinieri di Canale vengono chiamati da Carlo Dacomo che sostenendo di essere un creditore di Calleri per alcuni milioni per la costruzione di una strada chiede oro di recarsi all'abitazione del Calleri per chiudervi gli accessi per timore che i ladri possano portarvi a qualcosa pertanto quel giorno del 9 agosto il brigadiere Verrastro si reca con Dacomo e un appuntato Pietro Barberis alla Barbisa e perquisisce l'abitazione sequestrando un mitra e una carabina ma nonostante abbiano fatto saltare il lucchetto del portico non vedono la botola di accesso al cunicolo dove ancora in quel momento è sequestrata e sicuramente viva Maria Teresa Novara di questa visita il brigadiere Verrastro non produce alcun verbale facendo risultare il sequestro del mitra e della carabina il giorno 13 per questo fatto viene trasferito nella stazione punitiva di Chiavenna e in seguito processato e assolto con la motivazione che la falsa notifica non sarebbe stata fatta per dolo ma solo per evitare la brutta figura di dover ammettere la grave negligenza di non aver notificato subito ai superiori il ritrovamento delle armi cosa che fra l'altro avrebbe comportato immediatamente un ordine di perquisizione e portato perciò alla liberazione della prigioniera il 13 agosto giornata torrida i carabinieri di Torino entrano ufficialmente nella cascina e vi trovano Verrastro che afferma di essere arrivato da poco e di aver trovato le armi che mostra loro invece come scritto sequestrate quattro giorni prima l'edificio si sviluppa su due piani cucina tre camere bagno e comprende anche un rustico nel porticato sono presenti lunghi e pesanti pezzi di lamiera stradale filo di ferro pille di mattoni attrezzi vari cassette con bottiglie di vino di produzione fratelli barbero incrostate di sporcizia nell'abitazione viene scoperta una catena fissata al muro dietro al divano con un anello chiaramente fatto per incatenare la caviglia di una persona e sparsi un po' ovunque ci sono vari giornaletti basta aprirne uno per trovare innumerevoli scritte in graffia adolescenziale con diverse frasi fra le quali si regge innumerevoli volte l'ossessiva ripetizione sono maria teresa sono maria teresa novara la ragazza rapita nel rustico un carabiniere sposta le cassette con i bottiglioni solleva le lamiere e poi grida brigadiere venga a vedere c'è una botola è circolare in ferro larga una settantina di centimetri i militari la sollevano entrano e si ritrovano immersi nel buio con torce che illuminano i dieci ripidi scalini di una scala e un corto corridoio con due porticine di ferro c'è un fetore incredibile che assale la gola provoca conati di vomito è impensabile resistere più di qualche secondo i militari quindi decidono di chiamare i vigili del fuoco di alba un pompiere con respiratore a bombola scende nel corridoio e sfonda la porticina di sinistra intravede una branda mezza sfondata stesa lì sopra c'è una bambina i capelli sono bagnati di sudore le labbra sono secche con tracce di rossetto alla caviglia destra una catena lunga circa un metro fissata con un lucchetto a un anello cementato nel suolo per terra c'è un bottiglione d'acqua vuoto la ragazzina ha resistito sette giorni nella notte del 4 e 5 agosto quando Calleri uscendo per i suoi miserabili traffici l'aveva rinchiusa mettendole la catena al piede fino al giorno del ritrovamento l'acqua era finita e anche l'aria quella poca che filtrava dal corridoio le prese d'aria rudimentali erano state bloccate dall'esterno con dei fogli di giornale datati tra il 5 e l'11 agosto i vigili del fuoco tentano di portare in superficie il corpo operazione che si dimostra subito difficile a causa del poco spazio a disposizione decidono allora di praticare un'apertura sul soffitto in corrispondenza della cameretta dove giace maria teresa solo così il suo corpo può riemergere dalla tomba accanto al suo lettino ci sono alcuni fumetti di diabolik e dracula oltre a delle riviste esplicite su un margine bianco la bambina ha scritto sono maria teresa e voglio andare da mamma e papà più in là vi è un grosso secchio per gli escrementi viene trovato anche un quaderno a quadretti dove la ragazza ha scritto il proprio diario una decina di pagine fitte di appunti scritte in bella grafia maria teresa quando calleri esce per i suoi loschi affari viene incatenata tasdraiata legge i giornali e sui bordi scrive frasi come voglio tornare a casa dove mi aspetta gente cara che mi vuole bene è un ragazzo simpatico molto bello mi piace ed io piaccio a lui una morte atroce quella di maria teresa ma l'autopsia rivelerà una verità ancora più terribile come già vi ho detto il suo giovane corpo mostra segni di ripetuti abusi subiti con una frequenza tale da fare escludere che siano ascrivibili alla sola persona del rapitore dalle testimonianze si può appurare che Calleri l'abbia venduta a degli uomini che erano ben conscienti di abusare di una ragazzina rapita inoltre come testimonia Borlengo tutto il paese sapeva ma nessuno aveva avvisato le autorità per porre affine a quell'osco traffico a mio avviso ad uccidere maria teresa non è stata come si sarebbe potuto pensare in principio la tragica fatalità della morte del rapitore con la conseguente morte per inedia sono state mani che hanno occluso i tubi dell'aria è stato il silenzio di decine forse centinaia di uomini il silenzio opaco malefico assassino di migliaia di persone per bene che sapevano ma non volevano avere fastidi Mario Bozzola è il sostituto procuratore che conduce le indagini può solo indagare in proprio per quel che riguarda il rapimento e si scontra con uno spaventoso granitico muro di silenzio circa due anni dopo accade un incredibile fatto esecrabile una mano sacrilegia o il traggio e spezza la lapide della tomba della piccola martire alla fine dal punto di vista legale la storia si è conclusa con la condanna di Luciano Rosso a 14 anni di galera nessuno degli stupratori e degli assassini di Maria Teresa viene coinvolto nella cronaca giudiziaria i pedoassassini l'hanno fatta franca nessuna giustizia ha potuto finora raggiungerli anche perché alcuni di loro erano potentissimi il procuratore di Asti Mario Bozzola durante le indagini si trovò sempre solo con l'unico supporto del fido maresciallo Pagella a primere l'acceleratore di un'automobile cui slittava la frizione ostacolato e sabotato dai magistrati obbedito svogliatamente dai subalterni sono passati quasi 50 anni da questo tragico evento eppure non uno degli abitanti di Canale d'Alba ha deciso di raccontare una verità che ancora oggi presumibilmente sanno in molti una verità che oltre a fare chiarezza sui fatti sarebbe un risarcimento postumo seppur infimo e totalmente insufficiente per Maria Teresa la cui immagine ieri come oggi non può essere lesa da quella parte di taglia moralista di facciata e immorale dietro alle quinte difficile anzi apparentemente impossibile comprendere i motivi che possono spiegare un'intera comunità a far quadrato in difesa di un gruppo di pedo perché di questo si tratta se si accetta di andare con una ragazzina di 13 anni l'unico aiuto che le tecnologie investigative moderne avrebbero potuto fornire riguarda l'analisi delle tracce genetiche per collegare le persone alla loro presenza nella barbisa e all'abuso intimo nei confronti di Maria Teresa ma da molti anni la barbisa ha cambiato i proprietari la scena del crimine è stata irrimediabilmente contaminata e il reato di violenza intima è ormai caduto in prescrizione detto questo io ho fitto di parlare in questo video questa è la triste storia di Maria Teresa Novara me l'avete chiesta in tanti quindi ho deciso di portarvela so che ce ne sono tante altre di storie come queste e devo dire che queste storie mi creano un'immensa tristezza e mi fanno anche piangere mi sono fatte le mie ore di pianto e dopo il pianto per me arriva la rabbia e questo è il motivo per cui riesco a girare questi video fatemi sapere cosa ne pensate di questa storia come al solito ci becchiamo nei commenti anche se immagino che avremo più o meno tutti quanti la stessa opinione ma come al solito insomma ci becchiamo qui sotto nei commenti io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti